Un treno carico di 123 tonnellate di rifiuti nucleari sta attraversando la Germania e suscitando la protesa di 14.000 ecologisti che hanno organizzato vari presidi. I vagoni arrivano dalla Francia e sono destinati ad un centro di stoccaggio tedesco, ma i manifestanti hanno bloccato per ore i binari. 16.000 poliziotti sono stati mobilitati lungo tutto il percorso per consentire il viaggio delle scorie e ci sono stati scontri durissimi con gli ecologisti che avevano eretto delle barricate, lo stiamo vedendo adesso nelle immagini e che poi hanno incendiato lungo la linea ferroviaria molti i feriti.